Poche ore fa, Piera Maggio, indignata e furiosa per quanto accaduto dopo il matrimonio del figlio Kevin Pipitone, fratello di Denise Pipitone, ha espresso la sua rabbia su Facebook. Kevin è il primo genito di mamma Piera Maggio, avuto dall'ex marito Tony Pipitone. Il ragazzo, all'epoca del rapimento della sorellina ancora bambino, oggi giovane uomo, ha sempre scelto l'anonimato. Purtroppo sono stati resi pubblici dei video e delle foto del matrimonio del figlio di Piera Maggio, senza il consenso dei diretti interessati. Come ben sappiamo, spesso succede che dei followers, profili e pagine su vari social network copiano il materiale e lo ripubblicano. Ecco quanto riportato da Mary Falco sulla bacheca Facebook di Piera Maggio solo 5 ore fa. Erano momenti e immagini personali e privati che la famiglia non avrebbe assolutamente voluto che fossero diffuse, tant'è che non hanno rivelato neanche la data del matrimonio sui social, né pubblicato personalmente foto e video. Se e quando decideranno di diffondere momenti personali della propria vita, sarà una loro scelta personale. Purtroppo sono stati resi pubblici dei video e delle foto del matrimonio, senza il consenso dei diretti interessati. Come ben sappiamo, spesso succede che dei followers, profili, pagine ecc. su vari social network copiano il materiale e lo ripubblicano. Infatti, voilà la diffusione sui social. Sappiamo benissimo tutti che Piera Maggio in tutti questi anni ha sempre cercato di proteggere la privacy di suo figlio ed era quello che avrebbe voluto che fosse stato anche adesso. Quindi, chiediamo gentilmente di eliminare tutti i video e foto del matrimonio dai social network. Sicuri della vostra comprensione. Grazie! Cosa ne pensate della pubblicazione di queste foto? Fatecelo sapere nei commenti. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.